Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha confermato le aree e parcheggio previste nelle scorse stagioni balneari a Portoferro e Fiume Santo. Gli obiettivi sono molteplici. Salvaguardare l'ambiente dagli incivili che lasciano le auto in luoghi protetti o a rischio incendio e facilitare l'accesso all'arenile e ai mezzi di soccorso. A Portoferro sono previste due aree e parcheggio necessarie a regolamentare il traffico verso la spiaggia. La prima in prossimità dell'arenile riservata ai mezzi di soccorso e ai portatori di handicap nonché ad aria di fermata temporanea per un massimo di 15 minuti. La seconda su aria privata per 500 posti auto. Lo scopo è duplice, limitare le presenze sul litorale interessato entro i limiti per lo stesso previsti dal pool in 1190 persone. A Fiume Santo sono confermati i parcheggi lungo la strada asfaltata che dalla SP57 porta alla spiaggia.